Associati olivicultori ben ritrovati alla 53 edizione del periodico 31 dicembre 2020. Siamo giunti a fine anno, siamo stati assieme per 12 mesi tutte le settimane con il nostro periodico. Siamo ancora in fase di attività di mulitura e alcuni olifici stanno ancora lavorando. L'olio che se ne trae ha ancora basse acidità, ha perso un po' di profumi e un po' di sapori, però dal punto di vista chimico è ottimo. Abbiamo ancora buoni oli pronti per essere acquistati dai consumatori, anche perché l'attività che dobbiamo fare come AIPO è quella di divulgare il consumo dell'olio. Ma per gli olivicultori, ecco, in questo numero del periodico abbiamo portato un prontuario. Abbiamo riunito tutti quegli speciali che riguardavano patologie emergenti o problemi fitosanitari ed agronomici sorti durante la campagna di produzione 2020, li abbiamo uniti, raccolti e ve li presentiamo. Oggi li trovate sul sito www.ipoverona dove potete andare a leggerli, a valutarli e vi servirà come manuale pratico all'interno dei vostri oliveti. E naturalmente noi siamo sempre a disposizione. Come dalle Ocandina stiamo predisponendo per gennaio 2021 un incontro su piattaforma internet assieme alla regione Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per valutare i problemi della produzione 2020 ed affrontare al meglio quella del 2021. Un caro saluto di buona fine e un buon principio 2021. Grazie a tutti.